Iniziamo subito con l'oroscopo musicale curato da Silvia Pagni. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale, buon lunedì. Oggi parleremo veramente di un grande nome, di un grande artista, di un grande chitarrista che ha dato l'innovazione della chitarra elettrica nella musica rock. Però prima di parlare di lui, io voglio augurare questo. Tanti auguri! Proprio oggi, 27 novembre del 1942, nasceva Jimi Hendrix. Nacque come John Alan Hendrix, figlio del 23enne James Alan Hendrix, e Lucilla Jeter, una ragazza 17enne afroamericana. Un aneddoto narra che il giovanissimo Hendrix si costruì una specie di rozzo cordofono, ricavato da una scatola da sigari sopra cui tese un elastico, altra pratica tipica dei poveri chitarristi blues agli esordi. Il primo strumento del giovane Jimi Hendrix fu una chitarra per destri mani, regalata dal padre dopo la morte della mamma. Imparò velocemente a suonare, rovesciandola, e questa abitudine caratterizzò tutta la sua carriera artistica. Nel 1961 fu arrestato dalla polizia di Seattle, perché trovato alla guida di un'auto rubata. Dopo alcuni giorni di detenzione, finì in tribunale. Si trovò quindi a dover scegliere tra un periodo di reclusione e l'arruolamento. Scelta la seconda opzione, venne arruolato il 31 maggio 1961 e successivamente inviata a Fort Ord, California, per compiere otto settimane di addestramento. Poco dopo il suo arrivo a Fort Campbell, Jimi conò il bassista Billy Cox, col quale in breve formò una band, i King Casuals. Nel luglio dello stesso anno, Jimi ottenne il congedo e si trasferirono prima a Kershville, Tennessee, poi a Indianapolis, quindi a Nashville. L'esperienza professionale a Nashville risultò essere alla fine un buon viatico per le prime esperienze on the road di Hendrix. La vera grande occasione di entrare a contatto con il dorato mondo del mainstream giunse proprio nel marzo del 1964, quando Hendrix venne reclutato come chitarrista della Isley Brothers Band. Nel luglio 1965 firmò un accordo contrattuale della durata di due anni con la Sioux Records e il Copa Management. Decise quindi di trasferirsi al Village, seguendo così le orme di colui che da quel momento in poi divenne uno dei suoi fari artistici ed esistenziali, Bob Dylan, di cui divenne grande ma grande appassionato. Il 1966 fu l'anno della svolta per Hendrix. Durante una serata al Chief Club sulla West 21 Street, il chitarrista fece la conoscenza di Linda Kate, a quel tempo fidanzata con Kate Richards. I due strinsero subito amicizia e Linda si prodigò per farli conoscere Henry Logg, al manager dei Rally Stones. Nessuno dei due ricavò impressione positiva dall'incontro e con grande delusione di Hendrix ogni prospettiva di inserimento sfumò. La ragazza insistette per presentarla a Charles Chandler, all'epoca ancora bassista degli Animals. L'incontro stavolta fu fruttuoso. Charles Chandler assistette a un concetto di Jim Hendrix, durante il quale si convinse di aver trovato il grande talento, la grande scoperta per lanciarlo. Inoltre si convinse del fatto che poteva diventare un ottimo singolo di lancio la versione di un blues di Bill Roberts, A. Joe, proposta da Jimmy con il piglio aggressivo che quest'ultimo gli aveva illustrato durante la sua folgorante esibizione. Il suo modo di suonare la chitarra conquistò l'attenzione di Eric Clapton, Jeff Beck e Paul McCartney, che ben presto gli permise di entrare nel salotto buono della musica dell'epoca, con il suo gruppo Jim Hendrix Experience. Pensate che la consacrazione avvenne nel 1967 quando suonò il suo cavallo di battaglia con i denti e con la chitarra dietro la schiena e al termine dell'esibizione diede fuoco alla chitarra con del liquido per accendini. Ancora oggi la sua storia, la sua musica vive per merito del fratello Leo Hendrix e del grandissimo chitarrista abruzzese Fulvio Feliciano. Loro girano il mondo per portare la musica di Jimi Hendrix ancora dappertutto e io ho avuto l'onore di conoscere, di conoscere proprio il fratello Leo Hendrix. Pensate, lui è venuto a mangiare, a cenare, a cena a casa mia. Quindi sono felicissima per questo. La sua ragazza tedesca Monica, presente nella stanza al momento del fatto, racconta di come Hendrix sia stato soffocato da un improvviso rigurgito causato da un cocktail di alcol e tranquillanti. Non è chiaro se il chitarrista sia morto nottetempo, come asserito dalla polizia, o se fosse ancora vivo all'arrivo dell'ambulanza, o sia soffocato durante il trasporto in ospedale, a causa del sopraggiungere di vomito in assenza di un supporto sotto la sua testa. Dopo la morte, le spoglie di Hendrix vennero riportate negli Stati Uniti d'America e si è portate nel Greenwood Memorial Park di Renton, Washington. Sulla lapide venne fatta incidere, oltre a suo nome, la sagoma di quella che fu la chitarra simbolo, la Fender Stratocaster. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto in tantissimi domani e per ora vi mando un bacio e un grande ciao da me, Silvia Pagni. Ciao!